Una depressione in approfondimento sul Golfo del Leone attiva un flusso umido meridionale su tutte le coste tirreniche della penisola. In Toscana, mercoledì 9 novembre, molto nuvoloso coperto con deboli piogge dal tardo pomeriggio, in particolare sui rilievi settentrionali. Venti moderati meridionali sulla costa, deboli nell'interno, mari mossi, temperature minime in aumento, massime stazionarie o in lieve calo. Sul territorio provinciale graduale aumento della nuvolosità con deboli piogge più frequenti sui rilievi, a Lucca e sulla Piana temperatura minima 12, massima 18 gradi, a Castelnuovo Garfagnane zone montane minima 13, massima 16, a Via Regge sul litorale minima 15, massima 19 gradi. Giovedì ancora tempo perturbato con schiarite nel corso della giornata.